The Icon of Sin, ultima mappa di Doom 2, siamo già arrivati alla fine E' molto facile questa mappa, c'è tecnicamente un nemico, sei oggetti, sono tutti qua davanti E niente, iniziamo subito, dove salverò Allora, dobbiamo subito cercare di attaccare quel Revenant là in fondo Che è l'unica cosa che dà fastidio di questa mappa Dai Hola, allora, questa mappa ha una particolarità, dove cazzo sono, Cristo Allora, che l'Icon of Sin comincerà a lanciarci nemici addosso Tanti nemici addosso E quello che dobbiamo fare noi è lanciarle praticamente dei razzi nella testa Chiaro, semplice e conciso Dobbiamo premere questo pulsante Nooo, ok Non voglio sprecare tutto il BFG Perché dobbiamo aspettare che quella piattaforma salga completamente in alto E poi dobbiamo abbassarla Dobbiamo tenere pronti i razzi Leate al cazzo No, anche tu Cambia velocemente l'arma, ti prego Ok, un colpo è andato a segno Avete sentito quel rumore, è praticamente quando l'icona viene colpita Quello che dobbiamo fare quindi essenzialmente è aspettare che arriviamo su E col giusto tempismo Dobbiamo riuscire a lanciarci un razzo dentro E possiamo notare che dobbiamo sbrigarci perché i nemici cominciano a farsi un po' troppo elevati Altro razzo andato a segno Ok Devo sbrigarmi, devo sbrigarmi, devo sbrigarmi No, levati al cazzo tu Bravo Sparatevi tra di voi Ok Ce l'abbiamo fatta Oh, finita così Oh yeah Non si può fare il 100% delle uccisioni anche perché non ci voglio sprecare tempo Ma è semplicemente così Tre razzi nel cervello e l'icona del peccato è sconfitta E allora, adesso vi faccio vedere una cosa Metto un attimino l'invincibilità e il no clip Posso passare in mezzo alle pareti Allora Essenzialmente Questa mappa ha un segretino Anche se non Non ufficiale Cioè, è ufficiale Ma non troppo Quando entriamo nella mappa Aspetta, facciamo così Qui La frase che dice Praticamente Sarebbe per vincere il gioco To win the game You must kill me John Romero Il creatore del gioco E se noi mettiamo il no clip E andiamo in questo punto qui E andiamo ancora un filino avanti Voilà La testa mozzata del creatore del gioco John Romero Qui su Su un bastoncino Che ci fissa Tranquillamente E E il bello è che possa Può prendere danno E una volta Praticamente Tra virgolette Uccisa Il gioco sarà finito Ma com'è che funziona essenzialmente? Essenzialmente funziona così Così è giusto per darvi Due notizie in più Tanto Nessuno guarderà sto video Ma non me ne frega un cazzo Allora No clip Praticamente Noi all'interno Dell'icona del peccato È la testa che colpiremo Per far danno E praticamente Quell'entratina lì È dove arriva il razzo Che fa lo splash damage Qui E quindi è così Va bene Ci vediamo a livello segreto